Michele Fornasier, come si suol dire, la domanda è d'obbligo, questa difesa senza Campagnaro è una difesa più vulnerabile. Dà fastidio sentire sempre la solita domanda? Beh, sempre la solita domanda un po' sì, però di sicuro l'esperienza, il carisma che ha un giocatore come Campagnaro ci aiuta tanto. Campagnaro con Fornasier e con Zupa riesce a far giocare bene la difesa. Quando non c'è l'Argentino c'è qualche problema, perché? No, più che problema, per me anche l'ultima partita è stata una partita in cui abbiamo giocato bene, però ovviamente ogni partita è penalizzata da episodi, a favore o contro, e a volte ci sono andati bene e questo giro non ci è andata male. Siamo tornati un po' a qualche mese fa, emergenza in difesa, non ci sarà Campagnaro, non ci sarà neanche l'ultimo arrivato coda, siete un po' contati lì dietro? Sì, ma si sa che gli infortuni ci sono, però noi, come ho detto prima, diamo sempre il massimo per fare il meglio. Una partita particolare, ci sarà, verrà rinnovato il gemellaggio con i tifosi, però all'andata, a proposito di Beffe, quella del rigore subito al 95esimo, grida ancora vendetta? Sì, anche lì è stata una partita a sé, però ormai è una partita dimenticata, passata, noi guardiamo questa che sta per venire venerdì e pensiamo questa. Noi andiamo tutte le partite, andiamo a giocarcela per vincere, poi il risultato è quello che è, però noi ci mettiamo sempre il massimo impegno e la mentalità giusta per cercare di portare a casa il risultato. Dobbiamo pensare a fare punti e a vincere le partite, poi il resto verrà da sé, guarderemo la classifica a fine campionato. Grazie.